Eeeh, che bui bel posto Guardate Bello Allora, ora prendiamo amore mio e andiamo al centro Mamma mia, è piena Range Rover C'è ancora arrivato, c'è ancora arrivato Allora, centro pieno già, centro pieno, pieno di negozi Ma molti chiusi, molti finiti, molti campioni Europa Eh sì, proprio, proprio così Molti campioni d'Europa ce l'abbiamo Un po' di gelata No, io pensavo che magari andiamo in quel barrettino che c'è la, verso la macchinetta Mi sembra lì loro fanno coppe di gelato Forse io prendo lì coppa di gelato 9, 9 Tu vuoi merosni? No Io No No? No, no Io proprio no Eh, per sera, per sera i denti escano Vestiti di sera Eh sì Ma che strano, sono solo le 5 e già si vestono da sera, madonna Ma cosa fare a casa? Ah, quello sì Ora bisogna prendere aperitivo Ah sì, sì Allora, dove ti lascio? No, io vado in barrettino più verso macchina perché devo mettere moneta Va bene, gli faccio video, dopo chiamami Ok, così dove ci troviamo? Qui o in barrettino? Io aspetto ti in barrettino? Io penso che in barrettino Va bene Allora, e noi andiamo Guardiamo cosa c'è, cosa c'è qui Allora, e noi andiamo C'è qui C'è qui E c'è qui Ore 16 Poi E noi andiamo Vento a distanza Oh, cazzo Oh, cazzo Dai a più grande Eh, che sa più grande a foto Sante, sante, va, si marano Anche sempre Dai, un po' window shopping Ciao, l'ulti Ciao Sono io Bosse, bosse Tutto dappertutto Bella panorama Attraversiamo il suo Angelo Bene, benedettino Non faccio vedere ma va bene piccola piccola ma non è grande che abbiamo visto più belle giacche proprio per esempio ups campioni chiusura chiusura canals chiusura perfetta ma noi siamo campioni e spettacolo sul spettacolo spettacolo Sì Aspetta, vorrei farvi vedere qualcosa. La città è molto molto interessante. Aspetta, campioni. Aspetta, si. Aspetta, si. Aspetta, si. Anche guardate, questa città è molto bella. Aspetta, si. Aspetta, si. Aspetta, si. Aspetta. 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 cars. Aspetta. Aspetta. Guardate che ancora il Gran Hotel è chiuso. E' ancora chiusa. Chissà che sarà per questo pericolo. Nessuno ne sa. Allora, facciamo il nostro amato Windows Shopping. Scusate, è interessante. Qui è più giovane. E questo io conosco. Benk. Sano. Soltanto otto. Boh. Va bene, andiamo avanti. Io ho voluto attraversare questa pasticceria. Allora, andiamo ad entrare. Siamo in dentro a questa molto molto antica pasticceria. Guardiamo cosa qui. Certo che torta. L'unica cosa che mi dispiace è che già è sera. Già poca roba che è far vedere. guardiamo. Sì. Perchè, non è vero. Perchè, non è vero. Sì, è vero. È vero. Grazie a tutti. Grazie mille. Arrivederci. Allora, molto molto gentile donna. Peccato che già sera è quasi tutto vuoto. Per pasticcerie bisogna arrivare sempre dal mattino. Ecco, speriamo che noi veniamo qui. Va bene, arrivederci. Ci sono amici. Ci sono tanti, venti. Mamma mia. Mamma mia, guardate. Mamma mia, guardate. Mamma mia. Sì, non ho capito, lei ce l'ha tutta buona. Sì, non ho capito, lei ce l'ha tutta. Sì, non ho capito. Sì, non ho capito, lei ce l'ha tutta. Sì, non ho capito. 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 Grazie a tutti